Sì, 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 sì non è che sono fai trappi, ma non devi conoscere tutti i genetimi, perché te ne conosci? no, devi conoscere tutti i genetimi, perché sei giovane, perché sei giovane, devi conoscere perché devi rompere il culo agli altri, non ti fanno le domande sulla musica, devi spaccare il culo agli altri, devi conoscere tutti, devi studiare, 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 Grazie.